Un lavoro di sinergia e di unione iniziato nel 2023 tra DP Autosport e Troni, confezionato dalla cooperativa bresciana Copre e da GCC. La scintilla d'innesco di questa avventura è l'amore per il rally, con la nuova stagione svelata alla stampa e agli appassionati questo venerdì nella splendida cornice di una seicentesca villa nel cuore della Franciacorta. È un progetto molto importante, la collaborazione con BP Autosport ha la possibilità di proporre il nostro marchio nel loro itinerante campionato lungo tutta la nazione. È fondamentale per noi, quest'anno partecipiamo con tre macchine, con tre piloti di livello. Per Stefano Tavernini, vicepresidente di Copre, il rally è da sempre una grande passione, passione che ha gettato le basi per la nascita della collaborazione tra la struttura bresciana di Pia Autosport e Troni. Quest'anno ci siamo preparati con tre vetture, l'anno scorso siamo partiti un po' in sordina, nel senso che abbiamo cominciato a fare l'esperienza con una Skoda, quest'anno invece partiamo con due Skoda Rally 2, una Clio Rally 4, per fare il campionato italiano assoluto. Non fa di certo segreto delle massime ambizioni nel panorama rallystico italiano, Alessandro Pedrocchi di DP Autosport, nella piena soddisfazione della rodata collaborazione con Copre e GCC, che ha portato ad un accordo importantissimo e che per il 2024 alza la sticella degli obiettivi. Da un equipaggio nell'italiano siamo passati a tre addirittura, quindi sia per Troni è uno sforzo che abbiamo chiesto ulteriore, sia per il team perché si è preso una grande responsabilità, si è messo in gioco con tre equipaggi nel campionato italiano. Diciamo che i presupposti per far bene ci sono. E protagonista è anche la terra bergamasca con una tappa importantissima, la Prealpi Orobiche, che gara sarà? Come vi state preparando? Sì, anche lì avremo due equipaggi perché sempre nel nostro programma del 2024 Troni c'è Siesto di essere presente anche a Bergamo. Il Prealpi Orobiche è una gara storica, è una terra di appassionati, il mondo bergamasco come il mondo brasciano è una terra ricca di campioni, di appassionati, è una gara sempre bellissima, veramente, hanno proprio speciali belle, gli organizzatori sono bravi, c'è tanta passione, avremo due Skoda. Per le vetture delle team di Pia Autosport Troni è stato il tempo della prima sfilata a Monticelli Brusati in terra Franciacortina. Con le auto i protagonisti indiscussi sono stati gli equipaggi. Il duo AC Team Italia, composto dal 22enne Roberto Dapra e dal piacentino Luca Guglielmetti, a bordo della loro Skoda Fabia R5 Evo. Al via del campionato italiano assoluto rally, su Skoda Fabia RS Rally 2 ci saranno il valtellinese Fabrizio Guerra con il Camuno Giovanni Maifredini. Nell'equipaggio Under 25, a bordo di una Renault Clio Rally 4 Ultima Evoluzione, svetta invece il nome di uno dei giovani più promettenti del panorama rallistico italiano, il 22enne Gabriel Di Pietro, che con Andrea Dresti prenderà parte alla categoria Due Ruote Motrici. Il campionato italiano assoluto di rally prenderà il via il 15 e il 16 marzo con il 47esimo Rally Il Ciocco e Valle del Serchio, in provincia di Lucca, in terra toscana, segnando così l'inizio di una nuova emozionante stagione di collaborazione tra Copre, GCC, Troni e DP Autosport.